Cari amici Rosanaro, qual è il vostro giocatore preferito e perché? Scopriamolo insieme ai nostri tifosi. Secondo me Coronato perché ha questo da vendere ed è un fuori classe, l'abbiamo visto. Nesterowski sarà tutto. Perché è proprio bravo. Perché l'attaccante di punta? È proprio buono. Si devono impegnare i vecchi. Coronato, perché fuori? Cione che è il migliore della difesa. Penso che saranno tutti, la squadra gioca per tutti, uno per tutti e tutti per uno. Nesterowski. Coronato. Forza Palermo. Forza Palermo sempre. Forza Palermo sempre. Forza Palermo. Forza Palermo. Forza Palermo. Forza Palermo. Sempre e comunque. Corza Palermo. Forza Palermo. Forza Palermo. Forza Palermo. Forza Palermo. Forza Palermo. Grazie.